salve ragazzi benvenuti in questo nuovo video in questo video vedremo come sostituire il filtro dell'area della grande punto della fiat grande punto mille 3 multijet 90 cavalli allora iniziamo con rimuovere le tre viti è un'operazione semplicissima l'emozione delle tre viti filtro artigianale allora se potete avete una bomboletta del genere carbuclian serve per pulire il carburatore si spruzza nel filtro nel filtro aria diciamo che servirebbe un aiutino perché la macchina dovrebbe stare intorno ai 2000 giri noi non l'abbiamo ma comunque cercheremo di spruzzarlo lo stesso non 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 a questo punto inseriamo il filtro nuovo ecco fatto avvitiamo il tutto è semplicemente abbiamo sostituito il filtro dell'aria non Grazie a tutti